A Teramo il sindaco Gian Guido D'Alberto dopo mesi di riflessione, un confronto pubblico molto acceso anche tra le forze politiche e civiche che compongono la maggioranza è arrivato a chiudere il cerchio sulla nuova giunta. Rimodulazione resasi necessaria anche a seguito delle dimissioni dell'assessore Giovanni Cavallari che è stato eletto in consiglio regionale. Nella nuova squadra di governo vede l'ingresso di nuove figure e la conferma di alcune posizioni, mentre altre sono state escluse. Tra i nuovi ingressi ci sono Marco Di Marcantonio del PD, Graziella Cordone della lista civica e in comune per te Miriam Tulli della lista Bella Teramo. Alessandra Ferri mantiene il suo posto in giunta, Ilaria De Santis di Insieme Possiamo e Valdo Di Bonaventura di Teramo Vive sono stati esclusi, quest'ultimo a causa della sua candidatura con azione partito di opposizione in comune. Le nuove assegnazioni includono Di Marcantonio, lavori pubblici e dirizia pubblica, cordone, politica, ambientali, economia circolare e gestione dei rifiuti, mobilità e trasporti, Tulli, personale, comunità educante e diritto allo studio, Ferri, sport, politiche, giovanili e rapporti con l'università, Filipponi, rivitalizzazione e rigenerazione economica e culturale, Ciammariconi, agenda digitale, servizi civici, generali, trasparenza e partecipazione e collaborazione tra le comunità, Ciapanna, rigenerazione urbana, governo del territorio di area vasta e sicurezza, Domenico, sbraccia frazioni e cura, manutenzione e valorizzazione del patrimonio culturale e Stefania Di Padova, vice sindaco con delega al bilancio solidale welfare politiche della casa. Il sindaco d'Alberto ha espresso gratitudine verso gli assessori uscenti per il loro contributo al raggiungimento di importanti traguardi e ha sottolineato che le modifiche sono state apportate per rispondere alle nuove sfide del PNRR e di altri progetti e servizi.